1, 8, 0! Eccanico, troppo! Colpo diretto! Timone, tirare tutto a tribordo! Tutto a bordo, sì signore! Barca, avanti! 2.000 metri! Versaglio! Barca! 2, 6, 0! 3.000 metri! Porte a bordo! Tirare tutto! Versaglio! Ah-ah! Distrutto! Versaglio cortito! Guarda che è tutto! Timone, tirare tutto a bordo! Versaglio individuato! Busco! Contenze! Renivamente! Versaglio distrutto! Caccia torpediglia! Abba bordo! 3.000 metri! Persaglio individuato! Preparare i tubi lancio scuro. Quasi colpito! Pimpone a tribordo! Sì signore, tirare a tribordo. Siluro, partito! Boppo diretto! Boppo diretto! Attacca il motto lato! Nenica a tribordo! Timone! A mezza nata! Timone a mezza nata! Il nemico si inclina! E perdite la città! Nenico distrutto! Barca! Abba bordo! 500 metri! Bersaglio individuato! Barca! Bersaglio! 260! 2000 metri! Barca! Avanti! 2000 metri! Bersaglio individuato! Barca! Bersaglio costito! Pericolo di acqua in fondo profondi avanti! Il nemico sta distrutto! Timone a tribordo! Sì signore, tirare a tribordo! Bersaglio individuato! Barca! Bussola! Uno, due! Bersaglio! Barca! Avanti! 1000 metri! Il fruto si inclina! E perdite velocità! L'alternità! Tutto a favor! Tutto a favor! Sì signore! E a meia dame! Sì signore! Bersaglio! Il nemico! Oh no no no! Sì signore! Bersaglio! Rito! Bersaglio! Bersaglio individuato! Bersaglio individuato! Caccia colpegne! 2.000 metri! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Cuocare gli scopo a viventi allagati! Tutto di ricordo! Trimone, attenzia l'arrivo! Contori, dietro, tutta! Trimone a Trimordo! Sì, signor! Andiamo subito, andate! E' mica colpito! Riparare le parti! Stilizzare il controllo dei danni! Divone a Trimordo! Trimone a Trimordo! Trimone a Trimordo! E' rinvento! Perfetto! Perfetto! Invenuto! Barca! Pronta! 1,8,3! 5,3,2,3! Portazione di riparazione! Guida con promessa! Fuori! 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 Quasi colpito! Gaccia con i linei! Avanti! Premita metri! Timone a mezzanale! Si signore! Versaio individuato, barca. Versaio individuato, barca. Versaio individuato, barca. Timone, mirare tutto a bordo. Versaio individuato, barca. Quasi confinito. Fighter, avanti. 6.000 metri. Motori a massima velocità. Versaio individuato, barca. Versaio individuato, barca. Timone a bordo. Sì signore, girare a bordo. Versaio individuato, barca. 2.2.0. 1.000 metri. No, bene mica. Versaio individuato, barca. Busto. 1.0. 1.000 metri. Motori a bordo. Il primo da bordo ci ha portato a gatti. Tutto la bordo. Come sconchimento. Timone a bordo. Versaio individuato. Caccia torpediniere, bersaglio individuato, caccia torpediniere, motori a massima velocità. Mettito, colpito! Timone a mezza nave. Timone a mezza nave, sì signore. Bersaglio individuato, fighter. Busto! Zero, zero, fighter. Bersaglio individuato, barca. Tre, zero, zero, 3.000 metri. Bersaglio individuato, fighter. Zero, zero, zero. 6.000 metri. La bocca, 3.000 metri. Bersaglio individuato, barca. Tre, zero, zero. 3.000 metri. Quasi colpito. Nemico distrutto! Bersaglio individuato. Bersaglio individuato, caccia torpediniere. 2, zero, zero. 2.000 metri. Timone a babordo. Mirare a babordo. Controllo dei danni per riparare fuori delle parti. Vuotare gli scompartimenti allagati. Nemico compito! Controllo dei danni alle squadre anti-incegno. Controllo degli scompartimenti in fiamme. Delle forze alleate. Barca! A babordo. 3.000 metri. Timone tutto a babordo. Sì, signore. Bersaglio individuato. Timone a babordo. Sì, signore. Milare a babordo. Controllo dei danni alle vostre stazioni. Motori a tutta velocità. Preparare i suoi bilancio di nuova. Pericolonia, propozio di tutti! Pericolonia, propozio di tutti! Pericolonia, propozio di tutti! Parco, spazio! Obviamente! Sì! Sì! È un baglio distrutto! Motori a tutta velocità! Ok, abbiamo subito dati! Il loro partito! Ma il bisogno di un forse... Parker, a forma, 4.000 metri! Bersaglio individuato! Parker! Bustole! 0,0! 2.000 metri! A tutto l'epipaggio! Abbiamo subito dati critici! Tutto a bordo, sì signore! Bersaglio individuato! Parker! 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 Veniva metri! Parker! Timone! A mezza nave! Timone a mezza nave! Sì signore! A tutto l'epipaggio! Abbiamo subito dati critici! Versaggio colpito! Tuffo! Fuppo a bordo! Tuffo! I vintaglio individuato! Tuffo! All'epipaggio! 2.000 metri! Mettropo! Distrutto! e ciò che stanno per la nostra benedica oia mamorgo che stai un individuo fai il primo dei centri per i amici per te che vieni oia 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 per salvio individuato si signore grigare a bordo colpo diretto e di colpito e di colpito e di colpito per salvio colpito per salvio individuato per salvio individuato barca bussola per salvio individuato 2 8 0 mille petri per salvio individuato profondi avanti timone tutto a bordo si signore per salvio colpito timone a mezza nave timone a mezza nave si signore a tutto l'equipaggio abbiamo subito danni critici timone a bordo barca avanti 2000 metri bersaglio individuato barca bussola 2 8 0 2000 metri a tutto l'equipaggio bersaglio individuato barca 2 8 0 1000 metri a tutto l'equipaggio abbiamo subito danni critici bersaglio individuato barca 2 8 0 4000 metri stiamo dominando il nemico si signore virare a bordo nemico distrutto rotta verso la base però cafè per signore film film un film 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 Grazie.